Oggi è stata una giornata molto importante perché abbiamo proprio avuto il modo di riflettere su una parola chiave della cura, che è la parola limite. Spesso noi pensiamo che il limite sia qualcosa che appunto chiuda, mentre abbiamo condiviso quanto il limite nella gestione del fine vita dell'emergenza e urgenza sia invece una possibilità, una possibilità di cura fondata sull'ascolto, sulla condivisione delle decisioni in un terreno così fragile e incerto come quello dell'emergenza e urgenza. Abbiamo poi anche condiviso quelle che sono le cause delle crisi del limite oggi, dalla negazione della morte, all'estrema medicalizzazione della vita, al riduzionismo che spesso purtroppo vediamo essere messo in atto nelle cure in ambito medico. Ma oggi abbiamo poi condiviso quanto il fermarci a riflettere su queste cose, quanto l'essere capaci di comprendere che cosa passa dentro di noi nel momento in cui ci relazioniamo con una persona in un momento così delicato della vita sia essenziale per la cura.